E' giunto alla decima edizione il mercato natalizio di Casal Bernocchi che si svolge nella sala teatro della parrocchia. Andiamo a vedere in particolare questo bancone cosa propone. Allora questo bancone propone tutte le palle di Natale che lavoriamo durante l'anno, abbiamo iniziato già da gennaio. Come sono fatte? Perché sono tutte pittura, capellini fatti a mano e noi iniziamo a gennaio a lavorare perché abbiamo visto che c'è stato un buon risultato. Questa invece dove l'avete comprata? Questa l'ho comprata a casa mia. Perché l'ha fatta lei? Certo, la sera mentre vedo la televisione mi dedico a queste cose. Ormai sono pensionata. Come è fatta? Che materiali sono? E' un cordino, si chiama cordino swan, tutta foderata, foderata con il feltro, le chiusure. Quanto ci si mette a realizzarla? Ma dipende, una settimana, anche al mare ho lavorato. Vedo un sacco di gioielli, questi arrivano da qualche esercizio commerciale oppure? In parte sì, ma la maggior parte li confezioniamo noi. Li fate voi. Sì, li facciamo noi, li assembliamo e cerchiamo di fare il meglio col cuore. Questi sono degli asciugacapelli, questi sono dei portabottiglie, portabicchieri e poi abbiamo le portamollette. Che materiali utilizza? Stoffe e feltro. E le fa lei tranquillamente? Sì, a casa, la sera, mentre mi rilasso. E' un mercatino che ha una prefisa finalità benetica? Sì, infatti, sono già tre anni che questo mercatino sostiene la nostra associazione. Noi siamo un'associazione, l'Officium, un'associazione di genitori di bambini malati di fibrosicistica. Operiamo al Bambino Gesù da 25 anni e realizziamo tutti i progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita dei nostri bambini. Infatti il mercatino di quest'anno è finalizzato a raccogliere fondi per l'assistenza domiciliare che ci permette di ridurre i periodi di degenza in ospedale. I bambini con la fibrosicistica devono fare frequenti ricoveri ospedalieri perché è una malattia cronica degenerativa per la quale non c'è una cura ma solo tanta prevenzione e noi lavoriamo affinché questa prevenzione sia sempre più efficace e permetta ai nostri figli di avere una vita più lunga e migliore. E a questo mercato natalizio anche un ospite d'eccezione che vi saluta insieme a me. Quindi da Casal Bernocchi per Canale 10, Babbo Natale e Alberto D'Abil.